Il Green Pass viene rilasciato dal Ministero della Salute sulla base dei dati trasmessi dalle regioni relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal Covid della persona stessa che lo richiede. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile e la si può ottenere una volta ricevuta notifica o avviso via email o via sms che avvisa che il certificato è pronto. La certificazione verde è totalmente gratuita può essere visualizzata, scaricata o stampata attraverso il ricorso alle piattaforme digitali tramite Speed o l'app Io, ma c'è anche la possibilità di ottenere la stessa rivolgendosi ad una farmacia. Insomma dopo la corsa ai vaccini ecco la corsa al Green Pass da stampare direttamente nelle farmacie. Sentiamo il presidente di Federfarma Pescara Fabrizio Zenobi. Sicuramente la richiesta è aumentata, è molto alta in questo momento. C'è stato chiesto di dare una mano come farmacie per i cittadini a questo tipo di bisogno soprattutto per quelli che magari hanno minore capacità di accesso alle risorse informatiche quindi questo è un servizio che si fa. D'altronde con la testa sanitaria bisogna inserire il codice fiscale, le ultime otto cifre della testa sanitaria e si scarica e si stampa rapidamente il Green Pass. Spiace purtroppo però vedere che come è stato chiesto a noi come farmacie e lo stiamo facendo la stessa aiuta, lo stesso sostegno, è stato chiesto ai medici di base. Non tutti ci stanno, anzi, ma nei pazienti in farmacia ho ricevuto poco a fare una telefonata da una collega di un cittadino dell'elto terra che si lamentava proprio di questo che non ci si aiuta fondamentalmente. Noi siamo disponibili però essere soli a farlo diventa complicato. Lei parla giustamente di disponibilità da parte delle farmacie, però ci sono delle farmacie, qualche farmacista che dice noi non siamo delle stamperie, delle copisterie. Guardi, io ritengo che in questo momento dare una mano al Paese, a chi ne ha bisogno, sia fondamentale. Quindi mi rendo conto che è un impegno, mi rendo conto che è un dispegno di tempo, però ritengo che poi quando si vanno a fare tutte quelle che sono le interlocuzioni sindacali, di richiesta, se non si è dimostrato di aver dato qualcosa è difficile ottenere.